Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti a questo appuntamento ormai, diciamo, periodico. Allora, oggi continuiamo il nostro percorso, ci sarà con noi l'Avvocato Giovanni Maria Caruso e inizieremo ad affrontare il tema dei contratti pubblici, quindi nel controllo amministrativo procedurale che si svolge, ma anche, è chiaro, nella fase di attuazione degli interventi programmati sul PSC, sono utili ed è utile per tutti noi una rispolverata di quelli che sono i temi relativi appunto alla contrattualistica pubblica, anche perché, appunto, è una materia sempre in evoluzione, quindi anche con il Covid nuove norme si sono aggiunte, quindi è importante che tutti noi abbiamo una base comune di base, appunto, e poi sulla quale poi eventualmente interagire sugli elementi poi più caratteristici relativi alle varie tematiche, ai vari contenuti, ai vari interventi di cui ciascuno si occupa sui diversi ambiti di intervento del PSC 2000-2020. Allora, come sapete, noi appunto abbiamo una pagina sulla quale abbiamo già pubblicato i vari interventi precedenti e quindi che potete rivedere in registrata se non avete appunto avuto l'opportunità di partecipare in diretta ai nostri altri precedenti webinar. Visto che questo è un tema di particolare importanza, vi invito ad utilizzare la chat per poi, nel caso, intervenire e fare, appunto, porre domande al nostro esperto. Vi ricordo che l'Avvocato Caruso è esperto della Task Force da gennaio e quindi per tutte le tematiche relative alla contrattualistica pubblica, quindi sia lato avvio degli interventi, quindi messa a terra degli interventi, sia lato controlli, e quindi vi pregherei appunto di attivare questo canale che si attiva tramite una richiesta all'organismo di programmazione. Quindi si richiede all'organismo di programmazione, quindi alla dottoressa Murri, di attivare l'esperto di assistenza tecnica e la dottoressa Murri poi gira la richiesta all'Help Desk, appunto, che poi analizza la tematica. Qualche breve, appunto, informazione curriculare sull'Avvocato Caruso, che è anche docente di diritto amministrativo presso l'Università della Calabria e che svolge tutta una serie di attività di consulenza, sia società di consulenza che direttamente per pubbliche amministrazioni e, appunto, tra queste anche il Formez per la Regione Abruzzo. Allora, siamo a 33 partecipanti, io chiederei, inizierei a chiedere all'Avvocato Caruso di aprire la sua webcam in modo da... ok, benvenuto. Perfetto. Allora, grazie Giovanni, avviamo pure e buon ascolto. Grazie mille. Allora, io cominciarei subito indicando alcune modalità operative della gestione del webinar di oggi a cui seguirà poi un successivo webinar il 15 giugno, già in programma, che riguarderà in parte gli stessi argomenti ma in parte anche argomenti diversi. Già mi è stato chiarito effettivamente che c'è una limitata capacità di interlocuzione nel senso che i partecipanti non hanno una possibilità di intervento diretto, ma è un intervento mediato, diciamo, dal moderatore e le vostre richieste verranno prevalentemente filtrate attraverso la chat. Ovviamente nel limite possibile cercherò di offrire una risposta immediata, però può darsi che per la natura tecnica di alcune delle questioni che ponete magari sarebbe più opportuno rinviare ad un successivo approfondimento. Venendo quindi all'oggetto del seminario di oggi, questo riguarda un tema che è potenzialmente sconfinato, ossia quello degli appalti pubblici, della contrattualistica pubblica, che è una materia amplissima e soprattutto nella prospettiva di chi lavora all'interno dell'amministrazione, gravita di problemi applicativi che possono essere anche fonte di non irrilevanti responsabilità. Quindi vi renderete conto che è impossibile esaurire il tema in 3-4 ore, basta tenere presente che normalmente questa può costituire una materia, oggetto di studi all'interno appunto dei corsi universitari e normalmente i master, i corsi di alta formazione su questo oggetto durano da un minimo di 60 ore diciamo ad una media comunque intorno alle 100-120 ore. Quindi l'idea di fondo è quella di cercare di esaurire gli aspetti principali della materia all'interno appunto di questi due incontri, rinviando all'incontro del 15 giugno per le questioni diciamo di carattere un po' più tecnico, dove la materia della contrattualistica pubblica sarà affiancata ad un altro tema importante che è quello legato agli aiuti di Stato. In questo senso l'utilità della chat con cui potete fare appunto delle domande e anche in funzione di un'attività di modellamento diciamo del secondo seminario rispetto alle vostre esigenze più specifiche, in quanto potrebbero esserci degli aspetti più settoriali su cui avete qualche esigenza particolare e che sarò felice di analizzare se effettivamente me lo farete sapere anche avvalendovi appunto di questa chat. Per quanto riguarda la parte generale e anch'essa strutturata tenendo presente la componente eterogenea diciamo del gruppo dei partecipanti, perché sicuramente fra di voi vi sarà qualcuno che affronta quotidianamente le questioni legate alla contrattualistica pubblica e potrà ritenere appunto alcune del contenuto di questo webinar un poco ripetitivo rispetto a conoscenze che comunque avete già acquisito, mentre per altri c'è il rischio che si spinga eccessivamente su questioni tecniche soprattutto se non c'è alla base una formazione strettamente giuridica. Cercheremo di tenere presente le esigenze di tutti con l'obiettivo generale di riservare all'incontro odierno la parte generale della materia e all'incontro successivo diciamo una parte dal contenuto più specialistico. Allora per iniziare sull'attività contrattuale della pubblica amministrazione bisogna partire dal presupposto che i contratti della pubblica amministrazione non producono effetti giuridicamente diversi dai contratti che vengono posti in essere dai privati. È infatti un principio ormai pacifico che l'amministrazione possegga la stessa capacità giuridica generale dei privati e un attributo naturale di questa capacità giuridica, capacità giuridica generale di diritto privato è quello dell'autonomia negoziale. Quindi noi come principio generale possiamo sapere che le pubbliche amministrazioni possono stipolare appunto dei contratti e su questo profilo vige il principio generale della atipicità appunto dello strumento contrattuale. Quindi l'attività contrattuale noi idealmente la possiamo contrapporre all'attività amministrativa in senso stretto che è retta da principi diametralmente opposti dove già che quando l'amministrazione agisce secondo strumenti che implicano l'esercizio di un potere, quindi strumenti di natura provvedimentale, gli stessi sono sottoposti al principio di legalità, nel senso che devono essere espressamente previsti da una legge e vige conseguentemente il principio di tipicità dello strumento provvedimentale. Quindi è radicalmente diverso e in un certo senso è invertito il rapporto che esiste fra l'attività contrattuale della pubblica amministrazione e la norma rispetto a quello al rapporto che caratterizza invece l'attività provvedimentale e la norma, perché l'autonomia negoziale implica, che abbiamo già detto che esiste un attributo appunto della capacità giuridica, implica autonomamente la possibilità di scegliere se contrattare, di scegliere con chi contrattare e a quali condizioni contrattare. Mentre per l'attività provvedimentale è la norma che deve prevedere a monte l'esistenza appunto di un potere e disciplinare le condizioni per il relativo esercizio. Ciò non significa che la pubblica amministrazione ovviamente possa porre in essere qualsiasi attività contrattuale e non soggiace a dei vincoli, giacché le norme incidono profondamente sull'autonomia negoziale introducendo una serie di limiti alla naturale capacità giuridica di diritto privato che spetterebbe all'amministrazione. Si tratta di un fenomeno particolarmente intenso, giacché le ipotesi in cui la capacità giuridica di diritto privato possa subire una limitazione sono normalmente molto limitate, perché nel diritto privato vige il principio dell'autonomia negoziale che è consacrato nell'articolo 1322 del Codice Civile che legittima il compimento di atti, la stipula appunto di contratti che non rispondono ad un modello tipico e le limitazioni all'autonomia negoziale assumono carattere eccezionale come ad esempio avviene per l'articolo 5 del Codice Civile che vieta gli atti di disposizione del proprio corpo qualora ragionino un danno all'integrità fisica di carattere permanente. Normalmente le limitazioni all'autonomia negoziale sono effettivamente legate alla fisicità della persona e solo eccezionalmente interferiscono su altri profili. Quindi normalmente un soggetto privato ha la libertà di scegliere a quali condizioni contrarre, può scegliere autonomamente di contrarre a condizioni palesemente svantaggiose, può scegliere con chi contrarre, può scegliere di assumere o di contrarre con l'impresa del familiare solo per vincoli di parentela e soprattutto può scegliere se contrarre o non contrarre. Tutti questi aspetti che sono degli attributi naturali dell'autonomia negoziale invece rispetto alla pubblica amministrazione subiscono delle forti limitazioni perché è stato procedimentalizzato tutta l'attività che dovrebbe condurre alla formazione della volontà della pubblica amministrazione e anche alla formazione del contratto che dovrà poi disciplinare i rapporti con l'amministrazione stessa. Ciò non implica che altri vincoli non possano essere implicitamente dedotti perché anche l'attività contrattuale della pubblica amministrazione per quanto risponda al principio dell'autonomia negoziale è comunque un'attività che si dice funzionalizzata nel senso che questa attività è sempre preordinata ad assicurare il perseguimento di un interesse pubblico e più nello specifico l'interesse pubblico assegnato alla missione istituzionale di ogni amministrazione che contrarie. Ciò nonostante la presenza di questi vincoli il contratto posto in essere dall'amministrazione non produce effetti diversi dai contratti posti in essere fra privati così il contratto di compravendita si caratterizza perché determina un effetto traslativo di un bene dietro il corrispettivo di un prezzo. Tuttavia è possibile distinguere e separare idealmente due fasi fondamentali che contraddistinguono la disciplina dei contratti pubblici. C'è una fase strettamente pubblicistica che definita proprio ad evidenza pubblica ossia nella quale l'amministrazione deve dare evidenza delle ragioni per cui stipula un contratto e delle modalità con cui è scelto il contraente e questa è una fase retta dall'attività amministrativa in senso stretto perché si caratterizza per l'esercizio di poteri autoritativi e poi c'è una fase privatistica che inizia con la fase appunto della stipula del contratto e termina con l'esecuzione del contratto medesimo. Queste due fasi consentono quindi di separare idealmente l'attività dell'amministrazione come contraente perché la prima fase è quella normalmente attratta alla giurisdizione del giudice amministrativo mentre la successiva fase quella attinente agli effetti del contratto è normalmente rimessa alla giurisdizione del giudice ordinario. Dopo la stipula del contratto l'amministrazione si comporta allo stesso modo di un privato e almeno tendenzialmente dispone delle medesime facoltà di cui disporrebbe un privato perché non si fa alcun esercizio di poteri di stampo autoritativi. In questo senso è facile capire che l'attività contrattuale della pubblica amministrazione è stata, l'amministrazione ha sempre utilizzato parallelamente agli strumenti autoritativi anche degli strumenti contrattuali e si è sempre più o meno fatta carico di esigenze affini a quelle che rispondono alla disciplina attuale. All'interno la disciplina storica che caratterizzava l'attività contrattuale della pubblica amministrazione era quella contenuta nella vecchia legge di contabilità di Stato che poi veniva esplicitata in un regolamento attuativo, il regolamento 827 del 1924. L'obiettivo principale di questa legge era quello di garantire che tutti i contratti della pubblica amministrazione fossero affidati attraverso dei pubblici incanti, ossia delle aste pubbliche. L'obiettivo della disciplina era unitario per tutte le tipologie di contrattuali, sia contratti attivi sia contratti passivi, sia per un appalto per la costruzione di un'opera, sia nel caso o nell'eventualità in cui l'amministrazione volesse vendere un bene, l'esigenza primaria tutelata da questa norma era quella di garantire il buon andamento della pubblica amministrazione. Quindi la vecchia disciplina sulla contabilità di Stato si muoveva in una logica volta a tutelare prevalentemente l'interesse interno della stessa amministrazione procedente e con esso indirettamente l'interesse della collettività in quanto tutte queste tipologie contrattuali implicano l'impiego di risorse pubbliche e quindi impongono una gestione oculata del patrimonio pubblico che a tal fine implicava l'osservanza di una serie di doveri, quale il dovere di imparzialità che doveva servire proprio alla scelta del miglior contraente. Quindi l'obiettivo appunto di questa disciplina era fondamentalmente quella di offrire un presidio al corretto utilizzo delle risorse pubbliche nell'interesse della stessa amministrazione procedente. La razio sottesa a questa disciplina tuttavia è mutata profondamente per effetto del processo di integrazione europea. Perché è importante questo processo di integrazione europea? Perché con il processo di integrazione europea la finalità tradizionale della disciplina, che era quella quindi di garantire un interesse proprio dell'amministrazione, si è arricchita con ulteriori obiettivi e questo sulla base di un principio, di un dato di fatto fondamentale, ossia le istituzioni europee che all'epoca si chiamavano istituzioni comunitarie, erano finalizzate alla realizzazione del mercato comune e quindi ambivano alla rimozione di una serie di ostacoli per l'affermazione di alcune libertà fondamentali, quale libera circolazione delle merci, dei servizi, dei capitali e delle persone e si è constatato che per creare il mercato unico bisognava garantire degli strumenti idoni proprio nel contesto degli affidamenti delle commesse pubbliche. E questo perché dal punto di vista economico questo settore, il settore della contrattualistica pubblica ha un rilevante impatto per l'affermazione del mercato unico e quindi queste regole che più o meno erano presenti in tutti gli ordinamenti moderni che prevedevano una selezione concorsuale del contenente si sono progressivamente ampliate e rispondono oggi ad una diversa finalità o meglio ad una finalità aggiuntiva che non è più quella di tutelare il corretto utilizzo delle risorse pubbliche ma proprio quella di garantire l'installazione di un mercato comune e quindi tutelare la concorrenza o meglio più che tutelare la concorrenza, promuovere la concorrenza all'interno di un settore, quello appunto delle commesse pubbliche che presenta un rilevante impatto ai fini dell'installazione del mercato comune europeo. Quindi in un certo senso muta la prospettiva in cui si colloca la disciplina di riferimento perché questa disciplina non è più animata esclusivamente dall'interesse al buon andamento dell'amministrazione ma sembra privilegiare all'opposto l'interesse appunto delle imprese, delle imprese che vogliono competere fra loro per aggiudicarsi appunto determinate commesse. È vero se noi guardiamo gli obiettivi della disciplina buon andamento e tutela della concorrenza ci sembra che questa innovazione non sia così rilevante perché sarebbe logico ritenere che garantendo una concorrenza per l'affidamento appunto delle commesse pubbliche parallelamente io garantisco anche il buon andamento della pubblica amministrazione. Soltanto questi due interessi buon andamento e tutela della concorrenza possono sviluppare anche delle dinamiche potenzialmente divergenti perché la tutela della concorrenza impone una massima trasparenza e quindi cerca naturalmente di sfociare su meccanismi che presuppongono un eccesso di regolazione per evitare che possa determinarsi un qualche vantaggio ad alcune delle imprese, mentre una disciplina improntata al buon andamento dovrebbe auspicare ad una sneghezza appunto delle procedure e quindi sacrificare qualche aspetto della tutela appunto della concorrenza per poter consentire diciamo di addivenire più rapidamente alla stipula del contratto e quindi noi vediamo che spesso si registra una tensione proprio fra gli obiettivi del buon andamento e il corretto utilizzo delle risorse pubbliche che sono proprie di ogni ordinamento nazionale e della singola amministrazione che vuole contrarle e tutta una serie di principi che poggiano le basi sulla necessità di instaurare il mercato comune e sono espressivi di questa attività di promozione della concorrenza che è stata imposta per effetto appunto del processo di integrazione europea che almeno agli albori iniziali del suo sviluppo era incentrato prevalentemente su interessi di natura economica e quindi ruotava proprio sull'esigenza del mercato comune a fianco a questo potenziale contaminazione delle procedure della disciplina della contrattualistica pubblica con interessi volti a promuovere la concorrenza questo settore si è progressivamente ampliato ed è stato considerato come uno strumento di politica uno strumento per l'attuazione anche di politiche sostanzialmente diverse ossia che non hanno niente a che fare né con la tutela della concorrenza né con le esigenze del buon andamento della pubblica amministrazione ciò è avvenuto soprattutto negli ultimi interventi di irregolazione della materia in cui lo strumento contrattuale il processo selettivo appunto del contenente pubblico cerca di tutelare anche interessi come quello ambientale prevedendo l'imposizione di particolari oneri nella definizione sia del contenuto delle prestazioni sia nell'esezione del contenente o addirittura delle clausole sociali a cui si aggiungono altri obiettivi di diversa natura che possono essere ricondotti al contrasto diciamo della criminalità comunque allo stato attuale noi abbiamo una volendo guardare a quelle che sono le fonti della disciplina dei contratti pubblici abbiamo la fonte principale è la costituzione laddove afferma alcuni principi fondamentali quale quello dell'imparzialità e del buon andamento la fonte principale è poi costituita dal diritto dell'unione europea sia primario che derivato perché abbiamo detto che la disciplina attuale attualmente adottata nel nostro ordinamento costituisce la trasposizione di apposite direttive europee c'è una disciplina nazionale quindi di ricevimento e poi ci stanno altre normative nazionali che continuano a regolare la fattispecie a regolare la fattispecie sia per la fase esecutiva dei contratti dove diciamo non dovrebbero interferire quegli interessi diversi che sono che la fase esecutiva dei contratti continua ad essere regolata dal codice civile sia anche per alcuni aspetti del processo di selezione del contenente in quanto rispetto ad alcune tipologie contrattuali si continua ad applicare la legge la vecchia legge di contabilità pubblica quindi noi troviamo una normativa stratificata sul livello sovranazionale livello nazionale e c'è da chiarire però un problema legato alle potenziali interferenze di una disciplina di carattere regionale perché come tutti voi saprete nel 2001 è stato riformato il titolo quinto della costituzione che ha comportato delle significative innovazioni rispetto ai criteri di distribuzione delle competenze legislative fra stato e regioni perché se prima le regioni avevano una competenza legislativa solo concorrente adesso hanno tendenzialmente la totalità delle competenze legislative esistenti la totalità delle competenze legislative e la competenza legislativa dello stato è limitata solamente alle materie contemplate al secondo comma dell'articolo 117 che costituiscono oggetto di competenza concorrente l'adozione di eh l'individuazione di una competenza residuale legislativa residuale in capo alle regioni e la eh diciamo l'esistenza di una competenza legislativa statale circoscritta alle suoi delle materie indicate dall'articolo 117 eh apposto dei significativi eh problemi perché nell'elenco appunto delle materie attribuite alla competenza legislativa statale in via esclusiva concorrente non compareva alcuna materia astrattamente eh o meglio che immediatamente fosse riconducibile alla eh vecchie materie legate alla contrattualistica pubblica o alla materia dei lavori pubblici che invece era espressamente contemplata nell'assetto costituzionale previgente alla riforma eh del titolo quinto quindi un'interpretazione letterale della eh del testo della costituzione potrebbe indurre apparentemente a ritenere eh che eh si tratti che la materia della della contrattualistica pubblica o dei lavori pubblici costituiscano oggetto di competenze residuali da parte eh delle regioni eh tuttavia eh la Corte Costituzionale sin diciamo dalle prime pronunce che hanno interessato il titolo quinto della Costituzione ha ricondotto gli ambiti di competenza legislativa dello Stato ad altre materie eh che prevedono la competenza esclusiva eh in materia di tutela della concorrenza in materia di ordinamento civile, giustizia amministrativa, rapporti appunto eh con l'Unione Europea. Quindi sulla base di questi titoli di legittimazione noi possiamo oggi affermare che eh la disciplina eh sulla contrattualistica eh pubblica è interamente eh praticamente interamente attratta nell'ambito di competenza legislativa esclusiva da parte dello Stato. Eh restano alcuni limitati margini per l'intervento di eh leggi eh regionali ma queste sono o confinate a settori particolari e eh mi riferisco all'affidamento eh per esempio dei servizi privi di rilevanza economica in cui eh essendo privi di rilevanza economica eh giustamente non ci sono interessi di un mercato appunto eh da tutelare e quindi non è invocabile una competenza in materia di tutela o di promozione della concorrenza. Mentre degli spazi un po' più ampi potrebbero registrarsi rispetto alle regioni a statuto eh speciale. Perché spesso la materia appunto del soprattutto per quanto riguarda eh i lavori e le opere pubbliche eh ci sono alcune regioni che in funzione dello statuto speciale che vi ricordo è adottato con legge costituzionale dispongono le specifiche eh possono disporre di specifiche competenze eh in questa materia. Altre interferenze sono più eh sporadiche e sempre connesse a interventi eh degli statuti eh degli statuti speciali e magari si collegano alla gestione o all'attività contrattuale che riguarda eh eh determinate categorie di beni. Un esempio classico è la gestione appunto delle acque su cui ci sono alcune eh significative interferenze eh rispetto alla eh disciplina statutaria speciale adottata eh da alcune regioni. Comunque eh venendo alla disciplina del codice eh dei contratti più nel dettaglio eh questa disciplina è spesso eh criticata eh criticata proprio per il ragione dei motivi che vi ho detto ossia eh per il fatto che ha introdotto nell'ambito del procedimento di selezione del contraente principi eh ulteriori e diversi rispetto a quelli economici ossia non solo quello di tutelare la concorrenza ma anche quello di valorizzare e tutelare l'ambiente, di introdurre clausole sociali o di predisporre degli strumenti eh di contrasto alla eh criminalità. La disciplina che ne risulta quindi è una disciplina molto complessa e che eh frutto eh di eh notevoli eh contenziosi eh in quanto eh l'amministrazione è chiamata ad una serie di adempimenti formali che spesso eh sottendono non solo competenze giuridiche ma anche eh competenze tecniche e questi adempimenti sono a loro volta complicati dal dal frequente rinvio a degli strumenti particolari a degli atti di soft law eh ossia normalmente delle linee guida che sono adottati da una particolare autorità l'ANAC eh in applicazione appunto di alcune disposizioni e qui si può segnalare che talvolta l'ANAC non interviene eh sulle linee guida espressamente richieste dalla disciplina eh di riferimento mentre un'altra volta ha ha preteso di intervenire anche su oggetti che non erano espressamente eh previsti eh che non era espressamente previsto che fossero oggetto di specifiche linee guida. Se noi eh vogliamo ricostruire eh i principi che governano appunto questa materia ci sono alcuni principi che riguardano sia la fase dell'affidamento sia la fase dell'esecuzione eh del contratto. Eh sono principi eh che in più delle volte sono espressivi eh di oneri comunque imposti eh normalmente imposte all'amministrazione che comunque vengono esplicitati esplicitati appunto dal codice eh dei contratti e vengono imposti e la loro osservanza viene espressamente imposta all'amministrazione. Il primo di essi è il principio di economicità che è un principio che ambisce ad un utilizzo ottimale delle risorse impiegate e quindi segna proprio il rapporto fra risorse impiegate e risultati eh raggiunti. E si traduce per esempio nell'esigenza di non svolgere più volte procedure di gara per l'affidamento del medesimo oggetto contrattuale. Un altro principio che eh caratterizza la materia è quello appunto di efficacia, ossia l'efficacia gli atti eh devono essere idoni a raggiungere quello scopo. Altro principio fondamentale è quello di tempestività, ossia l'esigenza di eh non dilatare eh eccessivamente il tempo, le tempistiche della procedura e ciò sia nell'interesse dell'amministrazione procedente che anche nell'interesse del privato contente. E anche questo è un principio che eh era già proposto nella legge generale sul procedimento amministrativo eh come perché espressivo di un'esigenza di semplificazione in realtà eh mal eh diciamo eh perseguita eh e eh diciamo corrisponde al divieto generale di aggravare il procedimento. E poi troviamo un altro principio che è quello di correttezza e buona fede che è un principio anch'esso eh espressivo in parte di principi civilistici eh segnati dall'articolo 1175 eh del codice civile e dall'altro dei principi che caratterizzano appunto l'amministrazione eh ossia eh eh quello eh di eh essere corrente nell'esercizio appunto del eh del potere di cui dispone. A fianco a questi principi che riguardano eh diciamo eh entrambe le fasi della contrattoristica pubblica ce ne stanno altri che sono eh peculiari della fase dell'affidamento. Il primo di essi è il principio appunto della libera eh concorrenza che quello eh che eh che abbiamo visto ha contaminato maggiormente l'intera disciplina. Questo principio si traduce nell'imposizione di una serie di adempimenti procedimentali che garantiscano la massima contendibilità eh del mercato eh degli appalti pubblici ed è diciamo un principio che è strumentale ad assicurare le libertà fondamentali eh poste dai trattati. Questo principio si traduce eh in altri sottoprincipi come quello appunto del favor partecipaciones ossia di garantire il più possibile la partecipazione del più ampio numero eh di operatori economici economici esistenti e si è poi tradotto in specifiche delle regole che consentono per esempio la partecipazione in forma in forma aggregata appunto delle imprese attraverso i raggruppamenti temporanei eh di impresa o anche altri istituti quale ad esempio appunto eh l'avvalimento. Eh altro principio che caratterizza eh la fase dell'affidamento è quello di parità di trattamento e di non discriminazione che sono anch'essi espressivi di principi eh comunque immanenti al nostro ordinamento perché eh traducono nel principio di uguaglianza e il principio appunto di imparzialità eh della eh pubblica amministrazione. Anche questo principio si traduce poi in formule diciamo più tecniche eh specifiche per la contrattoristica pubblica come la formula della par condicio fra i partecipanti e impone eh questo principio di valutare tutti i concorrenti eh in materia in maniera razionale e di evitare appunto che vi siano restrizioni all'accesso eh a determinate eh procedure d'appalto che non siano giustificate. Eh sempre nel novelo dei principi che ehm che eh caratterizzano eh la eh l'attività contrattuale vi è il principio di trasparenza che è un criterio generale della eh dell'attività amministrativa ma in questo caso è sempre eh funzionale a garantire eh diciamo le esigenze di partecipazione appunto dell'impresa alla gara stessa e l'accessibilità degli atti per il controllo sull'imparzialità degli affidamenti. Il principio di trasparenza si traduce eh in un naturale eh colorare ossia in un altro principio che è quello di eh pubblicità degli atti e si traduce anch'esso nella rimposizione di obblighi specifici alla pubblica amministrazione per garantire la più ampia eh conoscibilità degli atti di gara e questo principio opera sia in forma preventiva sia concomitante ossia durante la procedura sia in forma successiva imponendo degli obblighi di pubblicazione eh specifica di singoli atti eh di gara. A fianco a questi principi c'è un altro principio di eh derivazione eh strettamente europea che è il principio appunto di eh proporzionalità che eh per tradurlo in termini sintetici impone all'amministrazione di adottare delle eh delle procedure che non siano sovrabbondanti eh rispetto allo scopo. Questo principio eh si ritrova prevalentemente applicato nel settore della contrattualistica pubblica quando si tratta di definire eh i requisiti di partecipazione rispetto all'oggetto o al valore eh dell'appalto. Così sarebbe ragionevole per esempio che eh richiedere come requisito di partecipazione un fatturato anno eh pari al triplo del valore appunto della commessa come sarebbe eh eh irragionevole richiedere delle competenze molto più specialistiche rispetto a quelle che poi dovranno essere oggetto eh dell'affidamento. Venendo adesso un po' alla la parte eh più eh legata alle evoluzioni degli ultimi tempi eh un ruolo fondamentale nell'attività eh della contrattualistica eh pubblica è eh dovuto alla presenza di un particolare eh attore istituzionale che è l'ANAC. Eh l'ANAC è un'autorità eh rientra nel novelo delle autorità amministrative indipendenti e quindi per questa natura dovrebbe essere indipendente rispetto ad ogni eh sollecitazione sia da parte degli organi politici e quindi del governo sia appunto da parte delle imprese e ha raccolto una serie di funzioni che erano già previste da altre autorità. Era eh diciamo la eh l'antenato più datato dell'ANAC era la vecchia autorità di vigilanza dei lavori pubblici che era un'autorità che era stata istituita con la legge eh Merroni che si occupava solamente appunto di un eh determinato settore. Se le competenze di questa autorità si sono progressivamente evolute e parallelamente a questa autorità era nata anche un'altra autorità amministrativa indipendente che era proposta all'esigenza di eh garantire la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche. Queste eh autorità di vigilanza dei contratti pubblici e commissione per la valutazione e la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche sono poi eh confluite eh in un unico ente eh che è l'autorità nazionale anticorruzione che eh proprio nel settore dei contratti eh dispone di significative competenze e di poteri che possono eh far sorgere anche qualche eh legittima perplessità. Perché l'ANAC eh come vi dicevo non solo eh è preposta all'emanazione di eh linee guida ma eh talvolta la disciplina ha attribuito a queste linee guida che eh idealmente dovrebbero proprio per loro definizione dovrebbero ritenersi non eh prive di un carattere vincolante quindi ascrivibili a quegli strumenti di soft law ha invece attribuito a queste linee guida un carattere vincolante e ciò ovviamente pone alcune eh frizioni rispetto al principio eh di eh democraticità appunto eh dell'ordinamento perché eh se eh se non si tratta di leggi e quindi sono eh semplicemente linee guida le stesse non dovrebbero essere vincolanti. Se invece queste linee guida sono vincolanti significa che l'autorità come nella sua veste di autorità amministrativa indipendente sta esercitando un potere normativo che eh diciamo è sottratto alle forme di controllo eh democratico. Eh ciò nonostante eh proprio in ragione della natura fortemente tecnica del eh competenze richieste in questo settore eh si è ritenuto di poter attribuire questo potere regolatorio a questa autorità amministrativa indipendente. Fra eh i poteri particolarmente rilevanti nel settore della contrattualistica eh pubblica l'ANAC dispone appunto della possibilità di adottare eh dei pareri vincolanti eh su richiesta delle estazioni appaltanti o delle parti. Eh quando viene sollecitata a tal fine e effettivamente emette un parere eh un parere vincolante eh le eh parti hanno diciamo il dovere di attenersi a questo eh parere vincolante ma la sua vincolatività non osclude, non preclude il ricorso agli ordinali strumenti di tutela giurisdizionale. Quindi è sempre ammissibile l'impugnazione appunto del parere vincolante emesso dall'ANAC con l'avviso però che eh eventualmente il giudice potrà valutare la proposizione di un eventuale eh ricorso come una fattispecie idonea a integrare il caso appunto di rite temerale e quindi condannare eh alle spese la parte ricorrente che voglia eh disattendere il parere vincolante emesso dall'ANAC. Eh tuttavia i poteri eh fra i poteri più significativi eh che sono stati accordati in tempi eh relativamente recenti a questa autorità eh vi è il potere che ha accordato una legittimazione processuale attiva ossia la possibilità da parte dell'ANAC di poter proporre eh ricorso contro alcuni atti posti in essere della pubblica eh dalla pubblica amministrazione attinente alla materia della contrattualistica pubblica. Si tratta di un potere eh che ha eh assume carattere straordinario ed è stato attribuito a questa autorità sulla falsa riga di quanto era stato già fatto eh rispetto all'autorità garante della concorrenza e del mercato eh che a cui era stata già accordata da tempo la possibilità di agire in giudizio contro eh per eh diciamo far dichiarare legittimità e ottenere l'annullamento di provvedimenti che esibili la concorrenza. Questo potere dell'ANAC è oggi strutturato in una duplice eh forma eh ed è disciplinato dall'articolo 211 eh del codice dei contratti della pubblica amministrazione. eh questo eh la la prima forma è una forma eh che attribuisce un potere di ricorso eh diretto e eh questa eh secondo la formula adottata dall'articolo 211 l'ANAC è legittimata ad agire in giudizio per l'impugnazione dei bandi, degli atti generali e dei provvedimenti relativi a contratti di rilevante impatto emessi da qualsiasi stazione appaltante, sempre se ritenga che questi violino le norme eh esistenti in materia. Questo è un potere di ricorso eh diretto eh che viene ancorato diciamo a eh un presupposto fondamentale, ossia il rilevante impatto eh che può avere una determinata procedura eh di gara. Negli altri casi invece eh il potere di eh la legittimazione processuale dell'ANAC è eh diciamo mediata dalla eh dall'esistenza di una preventiva diffida da parte della eh una preventiva diffida eh all'amministrazione procedente. O meglio per essere eh più specifici il comma 1 ter dell'articolo eh 211 afferma che eh l'ANAC se ritiene che una stazione appaltante abbia adottato un provvedimento viziato da gravi violazioni del presente codice emette entro sessanta giorni dalla notizia un parere motivato nel quale indica specificatamente vizi di legittimità eh riscontrati. Il parere viene trasmesso alla stazione appaltante e se la stazione appaltante non vi si conforma entro il termine assegnato eh dall'ANAC comunque non superiore a sessanta giorni, l'ANAC può presentare il ricorso entro i successivi eh trenta giorni di fronte a giudice amministrativo. In altri termini in questi casi a seconda della gravità della violazione si legittima un potere di ricorso diretto da parte dell'ANAC o eh nell'eventualità eh in cui la violazione abbia diciamo una valenza più circoscritta e quindi non sia una fattispecie di rilevante impatto si offre diciamo all'amministrazione la possibilità di intervenire in autototela e quindi evitare eh che la fattispecie eh sfoci in apposito eh contenzioso amministrativo e quindi eh si sollecita sostanzialmente un ravvedimento operoso da parte eh dell'amministrazione perché il potere di ricorso è mediato da una preventiva di fida eh della eh una preventiva di fida all'amministrazione stessa che era visto dell'ANAC abbia violato le norme eh del codice. Allora chiariti eh questi aspetti eh sul ruolo eh dell'ANAC e sul rilevante impatto che ha nella disciplina della contrattoristica pubblica ehm c'è da analizzare un'altra questione eh un'altra questione che è quella che attiene alla definizione dell'ambito soggettivo di applicazione del codice dei contratti. Allora la definizione dell'ambito soggettivo sembra una questione eh semplice apparentemente chi è tenuto ad applicare la disciplina del codice dei contratti le amministrazioni pubbliche verrebbe eh da rispondere. Soltanto capire eh se un soggetto è un'amministrazione pubblica o meno è eh diciamo non sempre eh semplice è un'operazione abbastanza complessa soprattutto all'esito di quel processo di privatizzazione che si è sviluppato a partire dagli anni novanta che ha visto un significativo incremento anche sotto il piano della struttura organizzativa dell'amministrazione nell'utilizzo di formule organizzative eh previste per i privati. Parlo eh alludo evidentemente alle società pubbliche eh società partecipazione pubbliche eh eh bisogna tenere presente che la disciplina della contrattualistica eh pubblica soprattutto sotto l'influenza del diritto europeo si è progressivamente fatta carico di queste esigenze ossia capire quali soggetti ai fini dell'applicazione della disciplina dell'evidenza pubblica siano soggetti alle direttive europee e quindi al codice dei contratti. eh la eh nozione eh con cui viene delimitato l'ambito soggettivo di applicazione di questa disciplina è quella di amministrazione aggiudicatrice e questa è una nozione che comprende naturalmente le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici eh territoriali e gli altri enti pubblici non economici nonché le associazioni e i loro consorsi. Rispetto a questi soggetti non si pongono particolari problemi perché questi soggetti rientrano proprio nel novelo delle amministrazioni pubbliche tradizionali. Quindi è ovvio che un ministero deve sottostare le regole dell'evidenza pubblica come è ovvio che lo debba fare un comune, lo debba fare una regione e che lo debba fare anche un ente pubblico non economico. Eh più complesso invece chiarire se gli altri soggetti, altri organismi siano soggetti a questa disciplina. Per ovviare a questi problemi eh l'ordinamento europeo si è trovato eh a dover confrontarsi con diversi ordinamenti nazionali in cui l'attribuzione della natura pubblica eh o privata ad un determinato ente risponde alle logiche proprie che esistono in ogni ordinamento e quindi ha dovuto elaborare una nozione di carattere trasversale che si sovrappone alle qualificazioni giuridiche che un ente può trovare nei rispettivi ordinamenti eh di appartenenza. Questa nozione è la nozione di organismo di diritto pubblico ed è una nozione che eh serve eh per ascovare la natura sostanziale appunto di un ente che eh in ragione dei forti legami che presenta con la pubblica amministrazione potrebbe essere utilizzato strumentalmente dagli stati membri per sottrarsi all'applicazione delle disciplina eh sull'evidenza pubblica che come visto risponde la cui osservanza come visto risponde ad un'esigenza specifica delle stesse istituzioni europee. In questo caso questa nozione di organismo di diritto pubblico è una nozione sovrapponibile alle eh qualificazioni eh eh nazionali e serve unicamente per l'individuale quali sono i soggetti oltre alle amministrazioni giudicatrici tradizionali che devono essere tenuti all'osservanza della disciplina sulla contrattualistica pubblica. Quindi questi soggetti che sono qualificati come un organismo di diritto pubblico eh questa qualifica di organismo di diritto pubblico rileva eh teoricamente solo rispetto eh al problema di delimitazione dell'ambito eh soggettivo di applicazione eh del codice dei contratti anche se eh poi eh realisticamente possono trarsi appunto delle eh conseguenze ulteriori che derivano da questo stretto legame che esiste appunto con la pubblica amministrazione. Se vedete nella definizione eh che è riportata sono compresi espressamente solo gli enti pubblici non economici. Quindi eh già per capire se un ente pubblico economico sia sottoposto o meno alla disciplina dell'evidenza pubblica ai sensi del codice dei contratti eh non è eh diciamo semplicissimo e quindi eh diciamo che il codice dei contratti si applica eh sicuramente alle amministrazioni aggiudicatrici tradizionali ma possono esserci anche delle amministrazioni in senso stretto la cui natura pubblica è indubitabile come enti pubblici economici che sono sottratti all'applicazione appunto di questa disciplina. Eh è vero che il modello degli enti pubblici economici adesso è un modello in disuso però è un modello che è comunque esistente e eh per capire su un ente pubblico economico sia soggetto o meno alla disciplina sulla contrattualistica pubblica bisogna verificare se presenta i caratteri eh per essere qualificato come organismo di diritto pubblico. Quali sono questi caratteri affinché un ente possa essere qualificato come caratteristi come ente di diritto pubblico come organismo di diritto pubblico sono un requisito che viene definito un requisito formale ossia quello dell'esistenza eh di una personalità giuridica un requisito che viene definito eh di carattere strutturale che è quello che rappresentato dall'influenza pubblica determinante a cui è sottoposto questo ente e questo criterio appunto eh questo indice di carattere strutturale è legato a sua volta ad una serie di indici con cui riscontrarlo. Bisogna guardare se questo qui è un ente sottoposto ad un finanziamento pubblico, se la sua gestione è sottoposta a delle forme di controllo pubblico o bisogna guardare eh eventualmente se eh come eh com'è strutturato il processo di nomina della maggior parte dei membri degli organi apicali di questo ente. Se sussistono uno di queste condizioni sussiste il requisito appunto strutturale che ci indica proprio l'influenza determinante che l'amministrazione può esercitare su questo soggetto. Tuttavia il requisito più problematico è quello eh che viene definito teologico ossia il requisito eh che ehm ci indica se questo particolare ente è stato istituito per soddisfare bisogni di interesse generale non aventi carattere industriale e commerciale. Si tratta questa formula che è una formula ripresa dal eh dall'ordinamento francese eh dove la nozione di ente pubblico economico viene definito come ente a carattere industriale e commerciale. E sostanzialmente eh il processo attraverso il quale si può riscontrare questo requisito teologico eh presuppone una doppia operazione interpretativa. Primo luogo bisogna guardare il processo istitutivo di questo ente e verificare se eh dalla disciplina che eh che ne governa appunto l'esistenza eh sia eh possibile ricavare il fatto che questo ente sia stato eh istituito per soddisfare un bisogno di interesse generale. Dopo che sia avuto una risposta affermativa a questa domanda si deve fare un'altra indagine e capire se questo eh interesse generale assuma o meno carattere industriale o commerciale. Perché se assume carattere industriale o commerciale si deve ritenere che quest'ente benché sottoposto a varie forme di collegamento pubblico in realtà svolga un'attività di tipo imprenditoriale e quindi non vi sarebbe alcuna ragione per sottoporre le regole eh dell'evidenza pubblica. All'opposto qualora questo requisito teologico dovesse sussistere l'ente potrebbe essere considerato come un'articolazione indiretta appunto della pubblica amministrazione e ciò giustifica la sottoposizione dello stesso alla alle regole dell'evidenza pubblica. In realtà questa operazione è un'operazione molto complessa di capire se un ente è sottoposto o meno alle regole dell'evidenza pubblica e eh è un'operazione che va condotta caso per caso eh soprattutto rispetto al riscontro di quest'ultimo requisito eh quello teologico e eh il suo riscontro si incentra sia sulla valutazione di elementi eh attinenti lo statuto interno dell'ente ossia l'assetto organizzativo eh dell'ente. Facciamo un esempio l'ente assume il rischio di impresa ossia il rischio di non vedere remunerati i fattori produttivi impiegati nella produzione eh e questo potrebbe essere un indice della sussistenza di questo requisito teologico e quindi del carattere industriale o commerciale dell'interesse perseguito. Mentre altre volte dall'analisi organizzativa interna non ci so non ci offre delle indicazioni di per se risolutive e quindi bisogna fare riferimento al contesto in cui opera l'ente stesso. L'ente offre prestazioni eh in un mercato di riferimento aperto appunto alla concorrenza? Se offre prestazioni in un mercato aperto alla concorrenza questo probabilmente è un indice del carattere industriale o commerciale dell'interesse perseguito e quindi ci fa capire che quest'ente potrebbe essere che sarebbe eh può operare come un soggetto eh un soggetto privato. Quindi per capire se un ente è sottoposto o meno alle regole di evidenza pubblica bisogna fare un'operazione interpretativa molto complessa ed è un'operazione interpretativa che si richiede ehm pressoché integralmente ehm rispetto alla pressoché totalità delle società a partecipazione pubblica eh perché eh in esse vi è una commistione diciamo di aspetti pubblicistici e aspetti appunto eh privatistici e quindi caso per caso bisogna valutare se alcune società possono essere considerate come eh organismi di diritto pubblico. Vi anticipo già adesso che la maggior parte delle società pubbliche di rilevo nazionale eh derivando dalla trasformazione dei vecchi enti eh pubblici sono stati naturalmente attratti nell'ambito di applicazione appunto eh della normativa eh di questa normativa. Eh tuttavia bisogna operare alcune distinzioni perché l'ambito soggettivo di applicazione della disciplina dei contratti cambia eh se noi eh prendiamo di riferimento non solo i settori ordinali ma anche i settori speciali o esclusi eh dalla disciplina. si tratta eh più eh nel dettaglio di settori quali gas, energia, acqua, poste e trasporti eh che ehm sono eh caratterizzati da eh una situazione appunto di monopolio. Si tratta infatti tutti eh di settori in cui eh che si caratterizzano dalla presenza appunto appunto di una rete, di una rete che è un'infrastruttura coessenziale all'erograzione del servizio, e per questa ragione questi settori tendono a sfociare eh in un monopolio appunto naturale eh e eh in questi casi la eh l'attività imprenditoriale eh l'impresa opera sostanzialmente in una posizione di monopolio e quindi c'è l'esigenza di estendere eh di estendere l'ambito di applicazione eh di questa disciplina sull'evidenza pubblica anche ad altri operatori economici che eh sono eh individuati secondo la nozione di impresa pubblica. Nozione questa qui che ha una valenza eh circoscritta ai non solo alla disciplina della contrattualistica pubblica ma alla disciplina della contrattualistica pubblica riferita proprio a questi eh settori eh speciali. E eh per quanto riguarda questa impresa pubblica è sostanzialmente un ente che presenta le stesse caratteristiche dell'organismo diritto pubblico sotto il profilo formale e strutturale ma difetta di quel requisito di ordine teleologico che abbiamo individuato. Quindi è impresa pubblica anche un ente, un ente pubblico economico che persue che persegue eh interessi di carattere industriale e commerciale. Eh tuttavia in questo caso si ammettono appunto delle distinzioni perché ci stanno alcune attività delle imprese pubbliche che sono strettamente legate eh diciamo alle specificità del settore a cui appartengono e altre attività di queste imprese pubbliche che non eh che proprio perché riguardano servizi offerti nel mercato non necessitano di essere assoggettate alla disciplina eh sull'evidenza eh pubblica. Allora eh andiamo avanti su una questione sempre eh collegata alla definizione dell'ambito di applicazione della disciplina ed è una la questione dei cosiddetti affidamenti affidamenti in house. Allora cosa sono gli affidamenti in house? Gli affidamenti in house è eh un istituto eh di elaborazione giurisprudenziale eh che eh sostanzialmente ci dice che sono esclusi dalla disciplina appunto del codice dei contratti eh quegli affidamenti con cui l'amministrazione sostanzialmente affida un contratto a se stessa. Come si è sviluppata questa eh questa nozione? Questa nozione eh diciamo eh trae fondamento da un approccio sostanzialistico alla nozione di parte contrattuale e eh la giurisprudenza europea ha riconosciuto che quando i rapporti fra due organismi si sviluppano secondo eh modelli così intensi e tecniche così eh pervasive eh che fanno dubitare dell'esistenza di un'effettiva posizione di terzietà fra le parti non c'è alcuna ragione di sottoporre questi enti questi affidamenti all'osservanza delle regole della contrattualistica pubblica. Per questo vengono chiamati affidamenti in house perché in realtà si esclude che questo affidamento abbia un carattere intersoggettivo. Cioè sto affidando all'interno della medesima organizzazione e quindi non c'è nessuna concorrenza da tutelare perché si tratterebbe di un fenomeno di autoproduzione con cui l'amministrazione provvede da sola al proprio eh fabbisogno. Quindi in questo caso l'affidamento eh in house eh non sarebbe espressione di una autonomia eh strettamente negoziale dell'amministrazione ma di un'autonomia di carattere organizzativo per cui l'amministrazione può organizzare la propria struttura prevedendo anche una struttura formalmente separata ma sostanzialmente assimilabile alla medesima eh amministrazione. E questo approccio rispetto agli affidamenti in house si è sviluppato eh facendo tesoro di alcune tecniche di superamento della personalità giuridica che si erano già cristallizzate eh nel corso dell'applicazione della eh disciplina europea eh in materia antitrust e sono state riproposte dalla giurisprudenza europea eh proprio per consentire di dar rilievo a questi rapporti sotto un punto di vista eh sostanziale. I criteri affinché eh le condizioni affinché possono sussistere eh questi affidamenti in house sono molto stringenti eh e eh sono stati elaborati dalla giurisprudenza e si sono progressivamente arricchiti di ulteriori variabili eh e è richiesto che eh affinché un'amministrazione possa affidare direttamente eh ad un altro soggetto o un eh un contratto è richiesto che il rente destinatario dell'affidamento sia sottoposto eh da parte dell'amministrazione affidante a un controllo analogo a quello che l'amministrazione affidante è in grado di esercitare sui propri uffici. Poi la giurisprudenza ha chiarito che eh per garantire l'esistenza di un controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici la struttura organizzativa destinatario dell'affidamento non può essere una struttura che ammette la partecipazione appunto eh dei privati. In questo caso il controllo analogo noi lo possiamo ritenere come un requisito espressivo dell'appartenenza appunto di un determinato ente all'amministrazione che dispone l'affidamento. L'altro requisito è quello relativo all'attività che eh deve svolgere questo ente perché eh la giurisprudenza ha ritenuto eh che eh l'attività eh di questo ente deve essere smolta in misura prevalente nei confronti o nell'interesse dell'amministrazione controllante. In questo caso eh questo requisito quello dell'attività prevalente sarebbe espressivo diciamo della destinazione pubblica o meglio della destinazione all'interesse dell'amministrazione controllante dell'attività esercitata dall'ente eh che eh riceve l'affidamento diretto. Questo modello degli affidamenti in house è utilizzabile rispetto ad ogni eh struttura organizzativa. Eh quindi per esempio rispetto a fondazioni, enti, associazioni eh comunque partecipate da una eh da amministrazioni pubbliche. Però viene normalmente eh utilizzato rispetto a strutture eh in forma eh societaria e quindi in questo caso la disciplina del codice dei contratti deve integrarsi necessariamente con quella dettata dal testo unico in materia di società eh a partecipazione pubblica che detta una serie di requisiti aggiuntivi per garantire che la struttura organizzativa eh della società, la società, una soluzione organizzativa pensata eh per eh attività imprenditoriale possa essere in realtà piegata integralmente alle esigenze pubblicistiche dell'amministrazione eh che la controlla. E c'è da dire che il registratore nazionale ha interpretato con maggior rigore i criteri eh previsti per per il ricorso agli affidamenti in house e aveva così introdotto una serie di eh oneri aggiuntivi eh rispetto eh alle eh alle condizioni poste dalla disciplina europea per ricorrere all'istituto. Più nel dettaglio si prevedeva che la scelta dell'amministrazione di ricorrere ad un affidamento in house doveva essere motivata eh su particolari regioni che rendevano non rendevano utilizzabile lo strumento appunto della selezione concorsuale del contraente. E eh questa eh diciamo scelta del legislatore italiano eh è stato oggetto eh in tempi relativamente recenti di un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia eh perché le direttive europee affermavano il principio di autoproduzione dell'amministrazione pubblica ossia della sostanziale eh fra la scelta di esternalizzare appunto un servizio e solo in questo caso ci sarebbe stato l'obbligo di procedura di evidenza pubblica oppure di procedere autonomamente e di internalizzare appunto eh il servizio. In funzione di questa equivalenza fra le modalità di affidamento eh mediante esternalizzazione o mediante interne internalizzazione sono stati quindi sollevati dei dubbi rispetto agli oneri imposti eh dalla nostra disciplina interna. Eh tuttavia la Corte di Giustizia ha eh chiarito che il principio di autoproduzione affermato appunto dalle direttive europee in materia non osta ad una disciplina nazionale che voglia imporre delle condizioni più restrittive eh per l'affidamento in house. In questo caso diciamo che la disciplina nazionale si fa carico di esigenze non più di tutela della concorrenza ma di promozione della concorrenza stessa maggiori rispetto a quelle che erano eh rispetto a quelle eh che hanno caratterizzato le stesse istituzioni europee. E quindi il contratto può essere la scelta di eh ricorrere ad un affidamento in house può essere subordinato ad una valutazione ad una motivazione dettagliata sulla convenienza per la collettività eh dell'utilità di questa operazione interna e sono imposti particolari oneri motivazionali che devono essere supportati anche da un'analisi economica sui benefici eh rispetto alla collettività per i costi derivanti da un affidamento eh interno. Vi anticipo che in ragione della ormai prossima approvazione del disegno di legge della concorrenza gli oneri imposti per il ricorso a questo modello degli affidamenti in house subiranno ulteriori eh un ulteriore incremento e quindi si stringeranno ancora di più le maglie per il ricorso a questa eh tipologia di affidamento. Allora ho provato a riportarvi nel eh l'utilizzo delle vostre checklist di riferimento eh voi vedrete che eh quando dovrete eh procedere eh indicare la procedura la scelta eh della procedura eh c'è un'apposita sezione di questa eh checklist che vi rinvia ad una sezione ancora più dettagliata che riguarda proprio gli affidamenti in house e qui i requisiti di cui abbiamo parlato eh adesso indirettamente vengono dettagliati in forma eh più esplicita in questa eh checklist non so se vedete è un po' piccolo è scritto dove eh si richiede effettivamente che l'amministrazione di indicare quali sono gli atti amministrativi con cui l'ente in house è stato designato formalmente ehm alla svolgimento di quella attività. Bisogna indicare poi la convenzione a monte e eh l'indicazione di tutta l'attività di monitoraggio, rendicontazione eh e controllo e la disciplina appunto che si stava con la regione eh e anche con l'indicazione anche della struttura amministrativa di riferimento che poi sarà concretamente preposta all'esercizio di questi poteri di controllo. Allora vedo che eh si è collegata eh Maria Rosaria forse eh possiamo allora sì eh visto che diciamo al di là della della dell'introduzione che quindi aiutava un po' tutti i partecipanti perché come sappiamo le conoscenze sono diciamo eterogene e quindi una base di partenza comune era necessaria visto che ora stiamo entrando in questo tema che è sicuramente complesso e sicuramente sono molti gli affidamenti in house o diciamo ci sarà sicuramente una quota non voglio dire sono molti ma c'è sicuramente una quota di affidamenti in house sull'PSC allora volevo diciamo eh un po' anche chiedere ai partecipanti sempre attraverso l'utilizzo della chat se eh vogliono fare eh anche qualche commento oppure fare delle domande in merito al tema che stai affrontando. Quindi eh anche per per capire se eh diciamo il livello di partecipazione è calato oppure diciamo eh c'è una grande attenzione. I partecipanti in questo momento sono sessantuno però eh chiederei ad alcuni di loro di ehm appunto inserire dei commenti eh anche se fosse fino ad ora è tutto chiaro eh proseguite eh ma appunto vorrei diciamo sollecitare un po' di interventi nella chat. Quindi eh vi vi invito a scrivere altrimenti appunto vi chiamo uno per uno a casa in ufficio. Anche a beneficio del regatore perché. Sì anche a beneficio del regatore che logicamente sta parlando da più di un'ora e quindi sarebbe utile cercare di capire ehm in che eh in che posizione diciamo siamo. Allora Giovanni Brindisi ci scrive esposizione molto chiara. Benissimo. Vediamo se quando faccio lezioni normalmente eh con gli studenti universitari mi posso permettere di interco carri durante la direzione. No 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 però noi ci riserviamo poi nel caso a settembre se appunto i colleghi e l'organismo di programmazione sarà d'accordo noi proporremo anche delle giornate in presenza perché io ritengo che ormai sia eh arrivato il momento di ritornare in aula e di lavorare anche per chi per piccoli gruppi eh con delle appunto attività un pochino più diciamo anche pratiche eh non solo teoriche quindi sicuramente questo può essere un punto di partenza questo percorso che ci ha diciamo eh accompagnato in questi in questi mesi però quello che vorremmo diciamo proporre e poi fare dei piccoli gruppi in presenza proprio per fare un affiancamento eh diciamo più eh più concreto sulle attività che si svolgono tutti i giorni. Allora eh sono Giovanni Brindisi che ha risposto quindi io spero e mi auguro che gli altri non abbiano problemi di taschiera e che quindi non so vedo i primi eh Adriano Marzola, Alberto Russo, Alessandro Ciccone che è nostra task force, Alessandro Da Rossa, Alessia De Eugenio, scriveteci, diteci se è tutto chiaro e se volete dei chiarimenti sul tema degli affidamenti in house così che noi nel caso diciamo eh qui c'è il professor eh Caruso che vi può eh diciamo illustrare magari se avete anche delle domande su alcuni interventi che riguardano gli affidamenti in house eh possiamo anche rispondere con dei chiarimenti proprio più puntuali su su situazioni eh proprio diciamo reali. Vedo che qualche altro collega si sta diciamo sta scrivendo e non so se Giovanni nel frattempo vi bere un bicchiere d'acqua altrimenti eh dopo possiamo proseguire. Ecco qui il tema degli affidamenti in house è un tema sconfinato e se eh ci stanno molti affidamenti in essere qui gli allempimenti per l'amministrazione sono tanti e sono delicati soprattutto nella conformazione diciamo della eh dei rapporti organizzativi. Anche il form e se è un ente viene considerato un ente eh in house anche se qualcuno potrebbe avere qualche perplessità rispetto a queste vicende per capire che è proprio una materia molto eh abbiamo il controllo analogo del Dipartimento della Funzione Pubblica per esempio. Esattamente. È una questione molto diciamo scivolosa questa. Allora c'è Luciano Quercia però abbiamo sollecitato quindi c'è Luciano Quercia gli diamo la dovuta attenzione. In ordine alla verifica degli atti amministrativi di designazione formale dell'ente in house non può essere sufficiente verificare l'iscrizione all'elenco delle amministrazioni aggiudicatrice degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all'articolo centonovantadue. Allora questo è un tema che è stato sì eh questo eh non mi sembra che sia una domanda è una eh sì bisogna dire più un'affermazione. È però mi sembra che possa essere condivisa. No qui poi dice è una domanda eh cioè è una domanda. È una domanda. Allora tecnicamente eh ci sta questo questo è uno degli oggetti che ha costituito eh materia di linee guida. nel senso che sono state elaborate appunto delle linee guida che disciplinano e indicano gli adempimenti necessari a questo procedimento eh di eh inserimento dell'ente nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici eh che operano mediante affidamenti diretti. Soltanto eh eh l'elenco, l'inclusione nell'elenco non potrebbe non necessariamente una condizione sufficiente sia per la sussistenza per a eh per dichiarare la sussistenza dei requisiti degli affidamenti in house che sono poi sottoposti di volta in volta ad un accertamento che poi dipende sempre dall'esistenza di un eventuale controinteressato perché se c'è un controinteressato che impugna eh determinati atti con cui si è stabilito eh questo rapporto in house eh diciamo può avvenire meno il rapporto in house ma neanche rispetto agli adempimenti che sono poi richiesti eh dalle checklist di riferimento almeno qui eh ovviamente sto esprimendo una eh una mia opinione eh per cui non è sicuramente sufficiente eh l'elenco l'inserimento appunto in quell'elenco eh e anche l'inserimento in quell'elenco eh diciamo che spesso non è eh non sempre è oggetto di un'attenta verifica da parte eh da parte della stessa autorità eh da parte appunto dell'ANAC e siccome queste vicende che riguardano gli affidamenti in house sono sempre esposti a un contenzioso eh perché non rilevano solo le condizioni iniziali dell'affidamento ma anche tutte le condizioni che in medio tempo che si possono proporre sullo stesso affidamento. Vi faccio un esempio e poi se volete rispetto a questa vicenda ecco è sicuramente una vicenda che si presta ad approfondimenti ulteriori quindi se ci stanno esigenze eh potremmo eh potremmo dedicarvi anche degli approfondimenti nel corso della del prossimo incontro. Eh se eh una società che è destinataria appunto di un affidamento in house potrebbe per esempio cedere limiti di produzione previsti eh dalla eh dalla disciplina di riferimento. I limiti di produzione che sono eh stabiliti nell'ottanta per cento delle attività che si valuta in relazione appunto al fatturato eh con l'ente eh affidante. E se cede questi limiti ad esempio perde l'affidamento, è prevista la perdita appunto dell'affidamento. Allo stesso tempo anche una modifica degli atti statutari eh potrebbero determinare degli effetti eh sull'affidamento. Eh quindi bisogna stare molto attenti su eh questi eh affidamenti in house perché non rileva solo il momento iniziale dell'affidamento ma anche eh tutta la gestione del rapporto perché in qualsiasi momento potrebbe intervenire un fattore potenzialmente erroneo a far venire meno eh l'affidamento. e il controllo che viene esercitato in sede di iscrizione nell'elenco delle amministrazioni e giudicatrici eh diciamo non consolida eh definitivamente eh la posizione eh dell'affidamento. Eh quindi anche per una esigenza di completezza documentale eh rispetto a eh quanto vi viene richiesto dalla check list è sempre bene indicare tutta la documentazione eh di riferimento che viene espressamente eh richiamata. Alcuna delle quali ho detto è sottoposta a eh significative modifiche. Vedremo poi cosa succederà adesso col decreto eh col disegno di legge in materia di concorrenza perché sembrerebbe che almeno per la gestione di alcuni servizi qui eh le maglie si sia si stiano stringendo ancora di più proprio sulla falsa liga delle indicazioni della giurisprudenza europea che aveva ammesso eh la possibilità eh di eh introdurre condizioni più stringenti da parte eh della legislatura nazionale. non so eh allora a questo punto io vi direi sempre eh io ecco non c'ho eh non c'ho neanche un un riscontro effettivo rispetto essendo diciamo un'attività eh seminariale online non ho eh riscontro effettivo sulla eh sulle vostre facce. Normalmente vedo le facce degli studenti, dei partecipanti al corso e quindi c'ho un capisco più o meno se sono troppo tecnico o troppo poco tecnico e riesco diciamo ad aggiustare il tiro eh nel corso dell'esposizione. Qui non avendo appunto un riscontro immediato io vi consiglio e vi vi chiedo anche cortesemente di sfruttare effettivamente eh queste eh questa opportunità di interlocuzione via chat. Eh se non per l'incontro di oggi quantomeno in vista eh dell'incontro eh dell'incontro futuro in cui eh possiamo ecco se avete delle questioni particolarmente dedicate possiamo appunto effettivamente modellare il contenuto del prossimo seminario proprio su delle esigenze più specifiche e più puntuali che potete eh manifestare. Allora eh mi sembra che questa era eh la pausa anche perché vedo che eh scorrono i minuti e c'è il conto alla covescia che mi segna che sono rimasti eh 35 minuti no? Quindi io eh proseguo se non ho indicazioni contrarie. Sì a questo punto sì noi diciamo chiudiamo di solito alle undici e mezza sono due ore di lezione. Sì. Quindi a questo punto chiediamo a Luciano se ritiene diciamo si ritiene soddisfatto oppure ha bisogno di qualche delucidazione ulteriore e a questo eh se non ci sono altre cose direi appunto di procedere. Direi di procedere a questo punto vai pure Giovanni. Sì eh non vedo la risposta eh di Luciano Quercia però procedo ho visto. Sì sì tanto e quindi va bene grazie. Ok perfetto. Prego. Allora mentre sul fenomeno degli affidamenti in house diciamo c'è stata grande attenzione della giurisprudenza e della dottrina diciamo è una questione un terreno ormai molto battuto se sebbene sempre molto eh diciamo scivoloso c'è un altro eh fenomeno che non viene eh considerato spesso dalle eh dalle amministrazioni che è quello eh dei contratti eh fra amministrazioni pubbliche. Eh nel senso ci stanno alcune condizioni in cui eh i rapporti fra due amministrazioni pubbliche o meglio fra due amministrazioni aggiudicatrice non devono sottostare all'applicazione appunto del eh del codice. Sono condizioni che eh apparentemente sono molto eh stringenti eh perché eh si richiede che affinché un contratto fra amministrazioni non sia sottoposto alle disposizioni del codice questo eh contratto deve essere volto a soddisfare degli obiettivi che le due amministrazioni hanno in comune. Quindi l'attuazione di questa forma di cooperazione fra l'amministrazione ci dice l'articolo 5 del codice è retta esclusivamente da considerazioni inerenti l'interesse pubblico per intenderci non considerazioni economiche con cui c'è un'amministrazione che cerca di trarre guadagno da una prestazione offerta ad un'altra amministrazione e poi sempre per l'esigenza di tutelare il mercato è previsto che le amministrazioni eh aggiudicatrici che eh possono avvarirsi di queste formule di contratti fra amministrazioni non devono svolgere sul mercato aperto eh eh più del 20% delle attività interessate appunto dalla cooperazione. Questo è un eh un fenomeno dei contratti della pubblica amministrazione che non viene largamente utilizzato eh come invece avviene tra le amministrazioni per gli affidamenti in house ma che avrebbe eh diciamo una grande eh grande potenzialità anche perché il ricorso, l'analisi che poi sarebbe richiesta per vedere se sussistano o meno appunto questi eh requisiti è eh diciamo più semplice rispetto a quella richiesta eh per gli affidamenti in house perché in questo caso si si parla di cooperazione non istituzionalizzata eh proprio perché non prevede l'istituzione di un soggetto ulteriore che eventualmente può essere soggetto eh a discipline restrittive particolarmente invasive come per esempio per la costituzione delle società. Eh quindi in questo caso non c'è un problema di personalità giuridica degli enti e di approccio sostanziale alla nozione di parte contrattuale perché si prescinde del tutto dai rapporti di rango organizzativo che si stavano per esempio fra un comune e una società dallo stesso eh partecipato ma si guarda unicamente all'oggetto della eh prestazione contrattuale e in questo senso l'oggetto della prestazione contrattuale deve essere analizzata eh per valutare una serie di presupposti ossia che risponde ad un interesse comune delle delle amministrazioni aggiudicatrici. Facciamo un esempio una cooperazione fra una università e un'amministrazione regionale potrebbe rispondere ad un interesse comune dal lato della ricerca e dall'altro appunto ad acquisire il patrimonio conoscitivo su alcuni eh determinati oggetti. L'altra condizione è prevista una reciprocità degli obblighi nel senso sono eh tutte e due le amministrazioni coinvolte in questa cooperazione hanno degli obblighi che nascono appunto da questo contratto e poi è richiesto non è necessario che questi obblighi siano posti in una ripartizione egualitaria appunto dei compiti però vi devono essere comunque una reciprocità eh degli obblighi. Proprio per evitare impatti sul mercato almeno di norma è previsto eh o meglio vengono guardati con molto sospetto i trasferimenti finanziari che si potrebbero realizzare per queste attraverso l'utilizzo di queste formule fra un'amministrazione e l'altro che in linea di massima sono eh tendenzialmente esclusi tranne quelli che dovrebbero eh corrispondere ad un eh ad una sorta di rimborsa per i eh per i costi effettivamente sostenuti e derivanti da lavori, servizi e forniture offerti dall'amministrazione. Un esempio che potrebbe essere di queste eh cooperazione non istituzionalizzata eh che si colloca anche a di fuori diciamo dei rapporti eh dei rapporti in ausso potrebbe essere adesso non vorrei tirare in ballo però potrebbe essere il Formez rispetto ad altre amministrazioni non associate oppure eh anche due comuni che stabiliscono che si occupano di fasi diverse per esempio della gestione eh dei rifiuti un comune si occupa della raccolta l'altra dell'incenerimento o meglio del smaltimento eh dei eh dei relativi eh rifiuti. Questo è uno strumento che eh quindi ha grande eh potenzialità e che potrebbe essere utilizzato proprio quando eh diciamo i rapporti eh tra amministrazioni si potrebbe realizzare un interessante scambio di condivisione di competenze fra varie amministrazioni. Allora andando avanti eh dopo la definizione dell'ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della disciplina bisogna guardare l'ambito soggettivo eh l'ambito scusatemi oggettivo eh e eh l'ambito oggettivo eh eh lo ricariamo dalla stessa disciplina del codice che ci chiarisce che i contratti pubblici sono di appalto o concessione e ci dice pure che questi contratti sono contratti a titolo oneroso eh stipulati eh per iscritto e quindi noi già possiamo ricavare sotto il profilo soggettivo alcune caratteristiche appunto dei contratti della eh della pubblica amministrazione che sotto il profilo oggettivo sono dei contratti a prestazioni eh corrispettive quindi contratti sinagammatici a titolo oneroso che ci dice la norma deve essere concluso in forma scritta ed ha per oggetto una prestazione relativa ai lavori, servizi eh o eh o forniture e sotto il profilo soggettivo sappiamo che una delle parti di questo contratto pubblico è la stazione appaltante eh che eh è un soggetto in vario modo collegato con i pubblici poteri e dall'altro c'è un operatore economico che ha natura tendenzialmente privata ma potrebbe essere anche un soggetto pubblico che ha partecipato ad una gara eh di un'altra eh pubblica eh amministrazione eh e questa è un'ipotesi un po' più eh un'ipotesi un po' più particolare. Per eh quanto riguarda l'ambito d'applicazione del codice sembrano quindi esclusi da quella definizione eh tutti i contratti pubblici attivi e i contratti pubblici di natura associativa. I contratti pubblici attivi eh o meglio la contrapposizione fra contratti pubblici passivi viene normalmente eh stabilita in relazione guardando alla direzione del flusso finanziario che è in entrata o in uscita per la pubblica amministrazione. I contratti di appalti e eh di appalti relativi a lavori, servizi e fornitura determinano un flusso eh in uscita di risorse pubbliche mentre i contratti attivi sono quelli che determinano un vantaggio per la pubblica amministrazione anziché un esborso è per esempio il contratto eh di vendita di un determinato bene. In questo caso non si applica eh sembrerebbero esclusi dall'ambito d'applicazione del codice e lo stesso vale per i contratti pubblici associativi. I contratti pubblici associativi sono eh eh contrapposti ai contratti eh diciamo a eh prestazioni sinagmatiche o contratti di scambio perché in questi ultimi la lutilità che una parte vuole trarre dal contratto si afferma a discapito della controparte contrattuale. Nel contratto di compravendita il venditore vuole vendere al prezzo maggiore e il compratore vuole eh comprare al prezzo eh inferiore. Invece in questi contratti associativi eh non si realizza questa contrapposizione fra l'interesse delle parti ma sono tutti tutte le parti condividono appunto il medesimo scopo e l'esempio tipico è il contratto eh di società. Vediamo che a questa apparente diciamo esclusione totale della disciplina appunto del codice che eh deriverebbe dalla natura attiva o associativa del contratto eh però si contrappongono alcune indicazioni eh più specifiche. Così l'articolo quattro eh relativo ai principi eh che governano i eh contratti esclusi prende esplicitamente eh riferimento ai cosiddetti contratti attivi e eh ricordando che questi per quanto non siano sottoposti all'applicazione del codice devono essere comunque rispettosi da eh questi contratti sono conclusi nel rispetto dei medesimi principi che abbiamo eh enunciato prima economicità efficacia parità di trattamento eccetera. Eh la sottoposizione dei contratti attivi alle regole dell'evidenza eh pubblica in realtà eh discende da alcune disposizioni che sono ancora in vigore della vecchia legge di contabilità di Stato che già impone che anche alcuni questi contratti attivi debbano essere comunque affidati eh per eh mediante procedure ad evidenza eh pubblica. Eh bisogna però eh tenere presente che talvolta eh vi sono alcuni eh contratti attivi che medesime esigenze di osservanza di quei principi eh si materializzano non solo per contratti attivi ma talvolta anche per contratti a titolo gratuito in cui eh diciamo l'utilità che riceverebbe l'operatore economico insita proprio nel fatto stesso di eseguire una determinata eh prestazione eh contrattuale e ciò sarebbe per un ritorno eh prevalentemente d'immagine che potrebbe essere comunque suscettibile eh di una valutazione economica. Quindi anche in questi casi è richiesto appunto l'osservanza minima appunto di quei principi eh di economicità, imparzialità e via dicendo. Anche per i contratti associativi ci stanno delle disposizioni eh speciali perché il codice ci ricorda che nei casi in cui eh le norme consentono la costituzione di società miste per la realizzazione o la gestione di un'opera o per l'organizzazione la gestione appunto di un servizio la scelta del socio privato deve avvenire mediante procedura di evidenza pubblica e anche in questo caso le disposizioni del codice dei contratti pubblici vanno integrate con quelle eh stabilite dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica che detta delle condizioni aggiuntive su questi eh profili legate alla quota di partecipazione del soggetto privato che non può essere inferiore al 30% al carattere appunto della procedura ad evidenza pubblica che è una procedura che si dice tecnicamente a doppio oggetto perché riguarda sia la sottoscrizione o l'acquista della partecipazione societaria da parte del socio privato sia contestualmente l'affidamento del contratto oggetto dal palto eh che viene stabilito come oggetto esclusivo della società eh della società eh mista. Se noi guardiamo alle distinzioni che possono essere operate all'interno eh della nozione di contratti pubblici possiamo far riferimento a tre elementi eh fondamentali uno è l'oggetto della prestazione l'altro è la causa appunto del contratto e l'altro è il valore appunto delle prestazioni. Ognuno di questi elementi comporta alcune eh ricadute particolari che talvolta possono possono interferire anche sulle caratteristiche delle eh procedure di affidamento. Per quanto riguarda l'oggetto della prestazioni eh questo è eh ovviamente legato a eh l'esistenza di lavori, fornitore o eh servizi dove eh la con l'agocuzione lavora si intende una serie di attività che varia dall'esecuzione europea alla ristrutturazione e tutta una serie di attività eh complementari a queste vicende. Con la fornitura di prodotti si intende una formula diciamo sostanzialmente idonea a ricomprendere qualsiasi contratto che determini un effetto traslativo di un bene in capo alla pubblica amministrazione e con la nozione di servizio invece ha un carattere residuale perché ricomprenderebbe tutto ciò che non è un'opera o non è eh appunto un eh una fornitura. Eh sapete sicuramente che questa disciplina era stata oggetto soprattutto in passato di una differente regolamentazione per settore. C'era una direttiva e corrispondenti decreti legislativi di ricevimento separati per lavori, per servizi e per eh fornitore. E eh in questo contesto eh diciamo c'era eh una disciplina che era quella eh dettata dalla legge Mergoni quella in materia di opere pubbliche che si caratterizzava eh per una molto più elevata a grado di vincolatività e di rigidità appunto della relativa procedura perché riguardava le esecuzioni di opere che hanno un impatto economico eh sicuramente più eh rilevante ma che soprattutto nel momento in cui era stata adottata eh diciamo eh soffriva ancora qualche strascico delle vicende politiche eh utilizzate eh delle vicende politiche che avevano caratterizzato eh mani eh pulite. E quindi la disciplina di lavoro è quella che storicamente è quella che prevede un maggior rigore nell'approccio eh alla eh regole della eh contrattualistica pubblica che poi si riflette su alcuni elementi più di dettaglio come ad esempio eh sotto il profilo delle qualificazioni e la eh necessario possesso appunto della eh delle SOA. Quindi vi sono eh vi sono anche oggi alcuni problemi quando l'oggetto della prestazione coinvolga opere eh o coinvolga diciamo prestazioni in natura diverse, lavori e forniture, lavori e servizi e via dicendo e questo fenomeno eh genera questa eh fattispecie dei contratti eh misti che può porre problematiche sulla definizione della eh disciplina eh della disciplina applicabile. Eh cosa eh qual è il problema? Il problema oggi forse più contenuto eh rispetto al passato però diciamo che c'è una sostanziale differenza rispetto a quanto avviene nel diritto privato perché eh nel diritto privato sappiamo che eh i contratti eh misti sono ammissibili per la formula sancita dall'articolo 1322 e eh non c'è nessun problema se si fondono in un unico schema contrattuale diverse tipologie di contratti. Eh ciò eh in altri termini è l'autonomia privata ossia sono le parti che sono hanno la possibilità di scegliere eh a quale fattispecie avente contenuto tipico quale contatto tipico voler far riferimento e quale sia ritenuto prevalente. Nell'eventualità in cui eh questa disciplina non risulta esastiva si può far riferimento anche alla disciplina eh in un prevalente. In ambito pubblicistico eh questo è un altro caso in cui l'autonomia negoziale subisce delle significative limitazioni perché non si guarda alla volontà delle parti ossia come l'amministrazione ha inteso qualificare un contratto se di lavori di servizi o di fornitura ma bisogna guardare all'oggetto specifico al contenuto effettivo eh delle prestazioni perché in questo caso qualificare un contratto in un modo o di un altro l'oggetto del contratto in un modo o in un altro può avere effetti proprio sul contenuto eh sulle caratteristiche anche del procedimento di selezione per i vincoli che riguardano alcune procedure. Eh nella versione del precedente codice eh diciamo si determinava per capire quale fosse la disciplina applicabile a eh a questi contratti misti si determinava un'alternanza fra un criterio funzionale funzionale ossia previsto per guardare all'oggetto principale della prestazione è un criterio puramente economico e in alcuni termini anche l'attuale articolo ventotto del codice ripropone un meccanismo in cui bisogna guardare a questi due aspetti ossia l'oggetto della prestazione e poi anche al valore eh stimato eh come più elevato delle differenti prestazioni che sono poi eh dedotte nel contratto. Tuttavia le problematiche applicative rispetto a questi contratti misti che si verificavano soprattutto nella sul rispetto dei requisiti di partecipazione sono rientrate perché le norme ci dicono che l'operatore economico che concorre alla procedura di affidamento di un contratto misto deve comunque possedere tutti i requisiti di qualificazione e le capacità eh prescritti per ciascuna delle prestazioni di lavori, di servizi o di forniture che sono eh previste eh nel contratto. Allora eh altra distinzione è quella relativa alla causa eh del contratto e qui la contrapposizione naturale è quella di appalto e concessione. Appalto e concessione sono eh due figure che sono eh contrapposte soprattutto in ragione della tipologia di obbligazione che assume il contrenente perché nell'appalto eh il contrenente assume un obbligo eh di risultato ossia di organizzazione attraverso di realizzazione appunto della prestazione attraverso una organizzazione a propri secondo i propri mezzi appunto dell'attività contrattuale e l'amministrazione paga solamente eh con la prestazione appunto che viene eh ricevuta. Invece nel contratto di concessione eh è apprezzabile soprattutto eh in relazione al differente rilievo che assume il rischio eh di impresa perché nel contratto d'appalto l'appaltatore assume un rischio eh diciamo sostanzialmente eh immanente in qualsiasi tipologia del contratto. Mentre nella concessione eh il il contratto la remunerazione appunto del contraente viene garantita non solo attraverso un esborso diretto da parte dell'appaltatore ma anche attraverso il diritto di gestire appunto l'opera o il servizio che costituisce oggetto eh di eh di affidamento. Quindi in questo caso la remunerazione effettiva del concessionario eh sottende l'assunzione di un vero e proprio rischio di impresa perché dipenderà anche dalla sua capacità di gestire di gestione appunto l'opera e questo elemento differenziale appunto fra appalto e concessione ossia l'assunzione del rischio di impresa e poi ci sono una serie di elementi che assumono prevalentemente carattere descrittivo perché nel contratto di appalto si eh risponde ad una struttura bilaterale dei rapporti che coinvolgono amministratore, amministrazione e appaltatore mentre nel contratto di concessione proprio perché attribuito la remunerazione del concessionario viene garantita attraverso la gestione dell'opera normalmente sviluppa un rapporto trilaterale in cui c'è l'amministrazione, c'è il concessionario e ci stanno anche gli utenti del servizio che pagano appunto il concessionario che in questo modo viene eh remunerato. Anche in questo caso si distingue poi fra concessioni calde, fredde, tiepide in ragione appunto delle caratteristiche eh dell'oggetto appunto della concessione perché queste eh concessioni spesso riguardano eh beni eh per esempio facciamo un esempio sulla eh l'autostrada in cui magari potrebbe esserci un potere tariffario e quindi l'intenzione da parte della pubblica amministrazione di contenere appunto eh l'esborso eh di denaro da parte degli utenti del servizio. E allora spesso eh rispetto a queste tipologie di contrattuali la remunerazione non è garantita solo dalla possibilità di gestione appunto dell'opera ma si accompagna anche ad un prezzo che consente al concessionario di poter eh mantenere l'equilibrio economico durante tutta la gestione del rapporto eh concessorio. Anche per questa ragione proprio perché implica un rapporto diciamo di eh gestione che si prolunga nel tempo la durata dei rapporti concessori è normalmente decisamente più lunga rispetto a quella eh a quella dei contratti eh d'appalto e eh presenta l'innegabile vantaggio di limitare comunque l'esborso da parte della pubblica amministrazione di un corrispettivo immediato che invece viene offerto o viene eh diciamo offerto direttamente da parte del eh concessionario nella realizzazione dell'opera. Altre distinzioni che dobbiamo fare all'interno appunto della eh della nozione dei contratti pubblici è eh quella che attiene alle cosiddette soglie perché una volta che abbiamo assunto che la disciplina l'attenzione della disciplina è quella di garantire il mercato unico è ovvio che l'attenzione delle istituzioni europee si rivolga prevalentemente a quel valore di a quelle commesse pubbliche che superino un determinato valore e che diventano in tal modo anche appetibili per le imprese appunto degli altri stati e per questo eh le istituzioni europee hanno individuato ed individuano ed aggiornano costantemente appunto delle soglie di rilevanza comunitaria eh che eh sottopongono quindi consentono di sottoporre a disciplina differenziata eh gli affidamenti in ragione del valore della prestazione eh e ovviamente è vietato frazionare un unico affidamento per finalità elusive perché frazionando un affidamento c'è il rischio di sottrarre l'amministrazione voglia sottrarsi alle regole più rigorose previste per gli affidamenti sopra soglia e le modalità di calcolo di questo valore dell'affidamento sono eh basate sull'importo eh stabilito valutato eh al netto d'IVA però tenendo necessariamente conto eh di eventuali premi o comunque rinnovi eh contrattuali. Le soglie sono eh previste nell'articolo 35 ma come dicevo sono soggette a eh rivisitazione costante e sono differenziate a secondo appunto dell'oggetto, lavori, servizi o fornitore e anche a seconda dell'amministrazione eh del carattere centrale o subcentrale eh delle amministrazioni di riferimento e anche eh in funzione del settore ordinario speciale a cui si riferisce il contratto. Ci saranno alcuni approfondimenti che faremo nel prossimo incontro che riguarderanno più nel dettaglio eh il tutta la disciplina degli affidamenti sotto soglia su cui valgono appunto delle regole eh particolari che a volte sono graduate sempre in funzione dell'entità del valore appunto della prestazione dedotta nel contratto e che proprio in tempi recenti hanno subito eh diciamo significative eh modifiche grazie alla disciplina ehm adottata per contrastare l'emergenza eh l'emergenza pandemica. Un problema collegato a ehm questa eh a le soglie è quella della suddivisione i lotti eh perché eh per favorire il favor partecipazione e quindi garantire una partecipazione alla eh commessa da parte di tutti eh gli soggetti eh anche delle piccole imprese eh è previsto che le amministrazioni debbano suddividere i lotti funzionali o prestazionali eh l'affidamento e debbano motivare nell'eventualità in cui non abbiano diviso i lotti questo affidamento. Con il lotto si intende una eh una parte dell'appalto che eh sia dotata di un'autonoma funzionalità e sia comunque fruibile e fattibile indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti e l'interesse appunto dell'amministrazione, l'interesse o meglio dell'istituzione europea e garantire una suddivisione ai lotti quando ciò sia possibile proprio per consentire che varie eh imprese possano partecipare eh a questa gara. Si distingue fra lotto funzionale che consideriamo come parti di un unico lavoro o di un servizio e eh invece c'è il lotto prestazionale che si incentra più sugli elementi qualitativi. In esempio nel primo caso una strada che può essere diviso, la realizzazione di una strada può essere divisa in lotti purché abbiano una propria fruibilità e funzionalità mentre un lotto prestazionale è una eh una soluzione alternativa diciamo ai contratti misti in cui è possibile suddividere per esempio una prestazione eh eh relativa ad alcuni ad alcuni ad alcuni ad alcuni servizi rispetto ad una prestazione che caratterizza eh eh l'opera. In ogni caso in cui si eh procede alla suddivisione ai lotti eh ci eh dobbiamo considerare che un unico atto, la gara costituisce un unico atto ad oggetto prurimo quindi tecnicamente non si tratta di una gara ma di tante distinte gare ognuna delle quali si conclude con un'aggiudicazione e la stipula di un apposito contratto. Eh parallelamente al discorso eh del lotto, della suddivisione ai lotti che abbiamo visto la normativa impone, dice che le amministrazioni suddividono i lotti e devono motivare nell'eventualità in cui non lo facciano. C'è però un principio contrapposto che è quello di divieto di frazionamento appunto eh di determinate prestazioni e qui eh questo eh principio noi l'abbiamo già richiamato quando abbiamo parlato appunto delle soglie adesso e c'è l'articolo 51 eh l'articolo 35 che ci dice scusatemi che non può essere un appalto non può essere frazionato al fine di evitare l'applicazione eh eh delle norme del codice e ci stanno altre indicazioni come l'articolo eh 51 che ci indica proprio che l'impossibilità di eh utilizzare il frazionamento e quindi la suddivisione ai lotti per aiutare le disposizioni del codice stesso e ciò impone che quando vi troverete di fronte alla scelta su se suddividere o meno i lotti eh bisogna fare una attenzione come ricordano le linee guide dell'ANAC all'oggetto appunto della prestazione che viene appunto dedotta nel contratto. Allora siamo ormai eh giunti, ci stiamo approssimando alla fine perché vedo che sono tre minuti ed è diventata rossa la luce eh del conto alla rovescia e quindi eh lasciamo una piccola introduzione su quanto vedremo la prossima volta e eh diciamo che vi ho già detto che una eh che la disciplina sulla contrattualistica pubblica prevede una formazione, una fattispecie a formazione progressiva in cui si forma la volontà della pubblica amministrazione e si eh stabilisce il vincolo eh contrattuale. Questa attività può essere distinta in varie fasi eh che eh vi è una fase di programmazione, una fase di che riguarda la determina al contratto, a contrarle, una fase di scelta del contente che a sua volta presuppone l'applicazione di specifici criteri di eh 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 aggiudicazione, l'aggiudicazione vera e propria, la stipulazione, i controlli e poi l'esecuzione del contratto. Nel corso della eh prossima eh incontro vedremo più nel dettaglio queste fasi appunto della eh procedura e eh faremo un focus più specifico sugli affidamenti sotto soia anche la luce della disciplina emergenziale. Eh vi verrà detto qualcosa in più eh sulle eh centrali di committenza e sull' eh sull'utilizzo appunto del MEPA e degli strumenti eh diciamo informatizzati e gli algoritmi e poi proveremo a affrontare se eh rimane tempo alcune particolari tipologie contrattuali come l'accordo quadro che forse è quella che vi interessa maggiormente nonché dialogo competitivo e partenariato e alcuni focus su alcuni istituti eh più di dettaglio come quello della prologa e del rinnovo eh contrattuale. Ovviamente se avete eh sollecitazioni ulteriori rispetto a questi argomenti e avete altri oggetti che eh volete trattare eh prima sono sorte domande solo sull'affidamento in ausso sono eh ben lieto eh di poter modellare diciamo il corso del prossimo seminario alle vostre esigenze. Maria Rosaria scusa ho finito il tempo. Allora no si è stato diciamo puntuale eh vediamo appunto se i partecipanti vogliono interagire con noi non fosse altro per dirci arrivederci buona giornata. Eh quello che appunto è stato e sarà eh appunto l'incontro con l'avvocato Caruso è proprio appunto una panoramica proprio per avere eh degli elementi di base comune eh comuni e eh eh sui quali poi andare a lavorare per eh poi lato attuazione e lato controlli eh eh sul PSC duemila e duemila e venti. Cioè questo lo 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 voglio ricordare eh per appunto tracciare quello e ricordare sempre qual è il filo conduttore. Eh in chiusura ricordo che appunto comunque visto che eh l'assistenza tecnica eh lavora costantemente in affiancamento ai responsabili di linea e i controllori di primo livello per svolgere eh le attività appunto sul sul PSC che eh l'avvocato Caruso è disponibile anche per appunto le consulenze, delle consulenze mirate sui vari interventi come ho detto in apertura tramite una eh attivazione, tramite l'attivazione, l'attivazione va fatta tramite l'organismo di programmazione che poi attiva il Formez. Quindi va inviata diciamo praticamente una email all'organismo di programmazione per attivare il desk eh dell'avvocato Caruso. Allora eh a questo punto io vi ricordo appunto la mail attivalfast.abruzzo.it se ci sono particolari eh richieste specifiche invece sui contenuti delle docenze eh se non ci sono domande come non mi sembra di vederle e ci aggiorniamo al prossimo appuntamento. Io ringrazio l'avvocato Caruso e vi auguro buona giornata. Ringrazio anche io a te Maria Rosaria ringrazio tutti i partecipanti eh per l'attenzione e allora ci rivedremo il quindici giugno nel corso del prossimo seminario. Perfetto. Grazie. A presto, arrivederci. A presto, a presto.